I benefici di Powerflow sono essenzialmente il fatto di semplificare i processi di compliance, quindi eliminare una volta per tutte le mail, le telefonate, i messaggi su Teams e avere una piattaforma unica dove ognuno sa cosa fare, ci sono dei ruoli, delle responsabilità e il processo può fluire semplicemente. Powerflow è sostanzialmente un motore di workflow vestito per il processo di compliance e quindi sostanzialmente raccoglie tutti gli attori del processo, li aiuta a lavorare in maniera collaborativa, quindi prima nella scrittura dei documenti, delle procedure di compliance, poi nella loro approvazione e infine mette a disposizione di tutti i dipendenti dell'azienda questi documenti e ne permette l'interrogazione semplice in linguaggio naturale. Le innovazioni che portiamo sono direi due, una è un'innovazione di processo, quindi sfruttiamo, ci basiamo sulla tecnologia per migliorare un processo che spesso è farraginoso e quindi lo rendiamo più semplice, più alla portata di tutti e poi la seconda è un elemento di AI che permette attraverso un chatbot la possibilità di interrogare i documenti e le procedure in linguaggio naturale e quindi di ricevere delle risposte più semplici per tutte le persone dell'azienda che così sono facilitate nel capire come devono lavorare e lavorare in una maniera più unita. La soluzione Power Flow è replicabile direi davvero in maniera trasversale in tutte le industrie, qualsiasi azienda che decide di documentare i propri processi ha dei vantaggi nell'utilizzo della nostra soluzione e documentare i processi è sempre una buona idea perché permette ad un'azienda di lavorare in maniera più sincrona e quindi poter crescere e scalare.